Con un capello improponibile, che sembra un gatto morto sulla mia testa, vi do il buongiorno in un orario anche un po' speciale, in un orario inedito. Non è il solito video che esce né alla mattina presto né a orario di pranzo, è un video che esce a un orario intermedio, perché questa mattina mi sono svegliato e ho deciso di registrare, solitamente quando il video esce alle 7 lo registro la sera prima, ieri sera non ci sono riuscito perché si è giocato un ottimo rinocentesi e nonno Socrate dove abbiamo perso purtroppo per due gol a zero e quindi al termine della partita era tardi ed ero stanco, non sono riuscito a registrare. Perché questo video esce a questo orario qui? Perché non ho ancora visto Report, proprio perché ieri sera ero a giocare la partita, non ho avuto modo di vedere la puntata. La recupererò su RaiPlay, ringrazio tutti gli utenti di Twitter che mi hanno consigliato questo metodo per recuperare appunto quello che è uscito ieri sera, perché in tanti mi state chiedendo ancora perché non abbia parlato di quello che è accaduto in Report e di quello che è venuto fuori su Calciopoli. Per un motivo, non ho visto Report, non ho visto la puntata, non ho capito cosa è stato detto, anche se ai grandi linee mi pare di aver capito dove sono andati a parare quindi penso di aver già abbastanza chiaro come orientare il video, ma io non voglio inseguire il momento, non voglio inseguire la tempistica. Voglio vedere il video, voglio ragionare su quello che è stato effettivamente detto e voglio portarvi un contenuto fatto bene, non un contenuto alla veloce, alla carlona, perché non credo che sia necessario, perché a me semplicemente le cose piace farle così, quindi chiedo scusa se arriverà un po' in ritardo, ma per via del fatto che ancora non sono riuscito a vederlo devo recuperarmela e poi in base a quello anche rielaborare un pensiero per cercare di portarvi il contenuto migliore possibile. Quindi aspettate ancora un attimo, non la voglio ignorare questa storia, è semplicemente uscito ieri sera e ieri sera io ero impegnato. Però oggi credo che la priorità della Juventus nella scala appunto dei pensieri non possa essere una puntata di report di Ray 3. Quella è una battaglia separata, è una battaglia parallela, è una battaglia che ormai dura da 17 anni, sta per diventare maggiorenne praticamente, stiamo parlando di una roba del genere, e quindi eccoci qua, eccoci qua a parlare di tutt'altro, di tutt'altro, però non dico che abbia lo stesso impatto che ha avuto quella vicenda, però per il futuro della Juventus è qualcosa di indispensabile. Io ieri vi parlavo su Twitter così, ieri ho sentito tantissimo, inizia la settimana più difficile, tosta e decisiva della stagione della Juventus, io sono d'accordo, ma rilancio, perché questa non è la settimana decisiva della stagione della Juventus, questa è la settimana decisiva e importante per il futuro prossimo della Juventus dentro e fuori dal campo. Sono due cose differenti, perché se da una parte Calciopoli è già stata archiviata, e vedremo se con qualcosa di nuovo si potrà, anche se, ripeto, fatemi vedere prima il servizio di report, caso Prisma, plus Valenza e stipendi, è tutto qui, è tutto qui, e domani, il 19 di aprile, ci sarà intanto già un bel riepiloghino, inizieremo a capire che cosa succederà. Tra l'altro oggi è il compleanno di Scesni, non so se ricordate, anche in un'intervista aveva detto, il 19 di aprile, il giorno per il mio compleanno, spero di farmi un bel regalo, quindi tanti auguri teccone. Per oggi la Juventus pensa con la roba lì, la Juventus intesa come società, la Juventus intesa come società oggi è concentrata sulla giornata di domani, la Juventus intesa come squadra deve essere concentrata invece sulla giornata di giovedì. Ieri c'è stato un giorno di riposo concesso da Allegri ai ragazzi, una sorta di day off, per chi è cresciuto come me negli anni 90, verrà naturale il parallelismo rispetto al riposo di Goku e Gohan prima del torneo di Cell, quando a tutti sembrava una mezza follia concedere un giorno di riposo prima di un evento così importante. Goku la giustificò dicendo che serviva per rilassarsi e per arrivare concentrati, nella miglior condizione possibile, al torneo. Io mi auguro che sia una roba di questo tipo, ma quanto visto l'altro giorno con Sassuolo mi preoccupa e non poco. E ancora una volta è tornato fuori il discorso relativo alla figura di Massimiliano Allegri, che è divisivo, era divisivo, sarà divisivo, rimarrà per sempre divisivo. Io mi sono già esposto, io vi ho già spiegato che cosa penso, da ben prima di questo filotto in cui abbiamo ricominciato a perdere qualcosa per strada. Io qualche mese fa vi ho detto, d'accordo, ci sono state delle migliorie e ci arriviamo rispetto a quello che abbiamo visto sia l'anno scorso, sia nella prima parte di stagione, ma l'anno prossimo, per quanto mi riguarda, sarà necessario cambiare tecnico per cercare di inseguire un progetto differente rispetto a quello che stiamo vivendo adesso, perché non mi sta convincendo il modo in cui Allegri sta approcciando il suo calcio alla squadra, l'idea che sta dando alla squadra. Perché troppo spesso ci ritroviamo ad essere rinunciatari, rinunciamo ad andare avanti perché l'importante è essere compatti dietro, perché non si sa mai che l'altro possa scappare dagli avversari e quindi devi essere pronto a non subire semplicemente, perché l'idea è prettamente riflessiva, che per me non è nemmeno male, cioè io non sono qui a dire che è giusto attaccare basta piuttosto che difendere, non è quello, lo sapete bene, chi mi segue sa che non è quello. Però voglio fare una riflessione con voi, è dato che vi dicevo che la Juventus dirigenza oggi sta pensando unicamente alla data di domani e ai processi che arriveranno poi perché arriveranno anche gli altri, arriveranno prima di quanto si possa immaginare, e oggi la Juventus non sta pensando alla parte dell'allenatore anche perché come potrebbe. Oggi la Juventus, gli organi decisionari della Juventus, chi sono? Cioè, il presidente che è lì, perché è lì? Basta leggere il curriculum di Ferrero per capire perché Ferrero è lì. Lato campo, chi decide? Perché in teoria Cherubini mi ha inibito. E allora c'è Calvo, ma davvero secondo voi sarà Calvo a fare le veci di tutta l'area tecnica e organizzativa sportiva della Juventus? Io i miei dubbi. Dovrà essere inserito, per forza di cose, un uomo, una figura di campo, che ad oggi non c'è, ed è quello che serve per programmare la stagione. Quindi, ribadisco, a fine anno ci si deve arrivare. Io sono abbastanza convinto che nella testa della Juventus, Allegri sarà allenatore anche l'anno prossimo, nella testa della Juventus. Nella testa di Allegri io non so invece cosa si sta muovendo, perché da tempo sostengo che al termine della stagione sarà lui a fare un passo indietro. Ma se Allegri non farà un passo indietro, la Juventus andrà avanti con Allegri, perché non ha né il tempo materiale, né le figure adatte alla ricerca di un nuovo allenatore in questo momento, e banalmente perché Allegri ha altri due anni onerosissimi, nati da una scelta di due anni fa, di non preoccuparsi per almeno quattro anni di trovare un altro allenatore. E questo uccide la meritocrazia. E su questo siamo tutti d'accordo. Perché significa che Allegri, qualsiasi cosa accada, rimarrà a capo della Juventus, a capo della squadra della Juventus. E sicuramente l'anno scorso male, quest'anno vediamo, ma le mie sensazioni ad oggi, che è l'antivigilia del ritorno con lo Sporting, non sono positive. perché da aprile in poi stiamo attraversando un momento terribile dal punto di vista delle prestazioni e dei risultati. Perché vi dico che io vedo qualcosa di diverso in negativo rispetto a due mesi fa? Perché qualcuno continua a dirmi sì, ma anche a febbraio eravamo messi così. Anche a febbraio la Juve andava in questo modo. E io vi dico, no, a febbraio io ho visto delle cose diverse. Oggi invece siamo tornati praticamente all'inizio della stagione. Per due motivi. Tanto uno, che sembra scontato e banale, ma non lo è, la Juve riusciva a portare a casa le partite anche in condizioni di emergenza, anche in condizioni non ottimali. Vincere delle partite, anche quando la prestazione è sporca, non è sempre sbagliato. Tante squadre lo fanno. L'importante è che poi di base ci sia una prestazione. E la Juventus riusciva a farlo. Ora non ci riesce più. Perché? E qua arriva la seconda motivazione. Ha abbassato i ritmi. Sono concatenate, sono una causa dell'altra. Ha abbassato i ritmi. La Juventus ora va ancora meno di prima. E prima non stavamo parlando di una squadra di maratonetti. Stavamo parlando di una squadra normale, come ritmi, che però, quando voleva alzarli, grazie a una condizione fisica di un certo tipo, in alcuni giocatori chiave, Kostic, Rabiot, Danilo, Di Maria, Di Maria, era in grado di rendersi più pericolosa. Ora c'è una flessione di Kostic, c'è una flessione di Maria, c'è una flessione di Rabiot, e forse anche una piccola flessione di Fagioli, che sono i 3-4 giocatori che là davanti facevano di più la differenza. Ed eccoci qua. Che cosa significa? Che l'allenatore ha responsabilità, come no, perché ovviamente passa anche la condizione fisica dei calciatori, ma la condizione fisica dei calciatori passa per forza di cose dallo staff atletico che viene scelto dall'allenatore. quindi se poi i giocatori nei momenti clou della stagione non arrivano in forma, non può essere colpa mia, almeno colpa dei calciatori, perché il calciatore non è un'autodidatta, non va al centro sportivo e decide oggi mi faccio la corsetta, domani mi faccio gli scatti, dopo domani mi faccio gli squat, cioè non funziona così. C'è una tabella di marcia predefinita e personalizzata, predefinita perché alla base è personalizzata, perché ogni calciatore poi avrà le sue motivazioni per fare un determinato percorso, che viene scelta da uno staff atletico. Per me queste sono responsabilità di Allegri perché sceglie lo staff tecnico, ma sono molto più responsabilità dello staff tecnico. Quando Allegri vinceva, e qua entriamo nel succo del discorso, nella prima esperienza alla Juventus, non ha mai attuato un calcio pieno di schemi. Io tante volte continuo a leggere. Allegri non ha schemi. La Juve di Allegri non ha schemi. No, ragazzi, spoiler, non ce li ha mai avuti nei cinque anni precedenti. Non ce li ha mai avuti. perché il calcio è interpretabile in più modi. E Allegri ragiona per principi e ha sempre ragionato per principi. Lascia tanta libertà ai calciatori. Abbiamo sentito Geda in tutti i teorici. L'ho intervistato io, insieme a Seacolf, così, e lui ci ha detto io quando ho avuto Allegri mi sentivo molto a mio agio perché ero un giocatore fantasioso e mi lasciava molta libertà. Questo è Allegri. Quindi non possiamo pensare, pretendere che da due mesi fa ad oggi la Juventus sia imbottita di schemi. Perché Allegri su queste cose non ci lavora. Semplicemente arriva sul campo e non ci lavora su queste cose. Però, sulle rotazioni dei giocatori, sulle motivazioni dei calciatori, sulla condizione dei calciatori, che dicevamo prima, è concatenata allo staff, e soprattutto su il tipo di partita e il tipo di atteggiamento che devono fare all'interno di una gara, quello passa dall'allenatore. Quello è responsabilità dell'allenatore. Apro e chiudo a parentesi, ha maggior ragione se è un allenatore come Allegri che non ragiona per schemi ma ragiona per principi. Perché allora, se non ragioni per schemi e quindi i giocatori in campo hanno molta libertà, tu devi essere bravo ancora di più di come si sta facendo adesso nei momenti di difficoltà a far capire ai calciatori che ci può essere quell'opzione, ci può essere quell'altra opzione, perché se no il calciatore è completamente abbandonato a se stesso e dopo il calciatore magari gli girano anche quando si ritrova abbandonato all'interno di una partita con l'allenatore che si arrabbia perché mi sbaglia il passaggio. Perché il passaggio me lo sbaglia certo il calciatore, ma dato dal fatto che essendo una squadra priva di un pattern, uno schema ripetitivo in fase di costruzione, in fase di finalizzazione, in fase di attacco, in fase di difesa, dato che l'allenatore su quelle cose non lavora, allora il calciatore è indotto all'errore magari contro una squadra organizzata che quelle cose ce le ha proprio perché non sa che cosa fare. Nel momento in cui lasci libertà alla squadra di eseguire queste azioni, allora tu devi anche essere consapevole che la squadra possa essere in grado di eseguire queste azioni. La Juventus, quando ha fatto anche il filotto di vittore, ce ne sono state due o tre convincenti nelle nove consecutive vinte, due o tre, le altre sei sono state risicate. Però era una squadra ordinata, era una squadra compatta, a febbraio era una squadra che correva anche di più, una squadra che alzava i ritmi e soprattutto una squadra che non si difendeva, non si abbassava terribilmente a difendere 1-0 dopo aver segnato. E questo è uno dei passaggi chiave, uno dei passaggi chiave, l'emblema, una partita che mi ha fatto arrabbiare tantissimo, io ricordo la gente che mi veniva a dire oh, sei matto, ma abbiamo vinto 4-2, ma cosa ti arrabbi? Partita con la Sampdoria, la partita con la Sampdoria mi ha fatto arrabbiare, che forse mi fa più arrabbiare quella che quella con lo Sassuolo. Con lo Sassuolo si è entrato in campo senza l'ambizione di vincerla, è inutile prenderci in giro, la squadra è stata messa in campo con l'ambizione di prendere quello che veniva, perché con lo Sassuolo tanto puoi vincere anche trattenendo, tirando il freno a mano. Però a volte a me viene a pensare che Allegri ancora ha ragioni con i canni della squadra che aveva qualche anno fa nel primo ciclo, ma non è più così, e questa cosa deve mettersela in testa. Quella con la Sampdoria mi ha fatto ancora più arrabbiare, perché tu l'hai sbloccata, tu l'hai chiusa in casa tua contro l'ultima in classifica 2-0, e stacchi la spina semplicemente perché ti abbassi, decidi di dire ho vinto la partita perché adesso tanto basta difenderla, e non va bene, e queste cose non passano da me, non passano dai calciatori, non passano dal tifoso, queste cose passano dall'allenatore, queste sono responsabilità dell'allenatore, queste le cose che mi fanno arrabbiare, quindi in vista di giovedì, mercoledì non ci può fare niente Allegri, perché la Juventus arriva a disco come società, pensa domani, la Juventus come squadra, quindi Allegri pensa giovedì, ma in vista di giovedì io non sono tranquillo, e chiedo a voi nei commenti scrivetemi se siete tranquilli, se siete preoccupati, perché siete tranquilli e perché siete preoccupati, perché oggi, e per oggi intendo in aprile, ho visto una flessione imbarassante, preoccupante, veramente preoccupante, che c'era già stata a marzo, ma era leggermente camuffata, forse perché a qualcuno le gambe giravano ancora, ma oggi oltre dal punto di vista dell'organizzazione, dal punto di vista dell'atteggiamento che imprime l'allenatore, io vedo anche un calo fisico che deriva dai preparatori nei confronti di alcuni giocatori che erano quelli che tiravano la carretta a febbraio, per quello io vi parlo di miglioramenti, è ovvio che vi dico che dal giorno zero dell'Allegri Bis al giorno oggi dell'Allegri Bis dal punto di vista degli schemi non c'è stato miglioramento, certo che ve lo dico, ma Allegri non ragiona così, allora non c'è stato miglioramento dal giorno zero dell'Allegri 1 al giorno ultimo dell'Allegri 1, lì non c'è mai stato miglioramento, però la squadra dato che ragiona per principi, l'allenatore che ragiona per principi ha delle responsabilità in più perché deve per forza di cose essere un tutt'uno con la squadra, non abbandonare la se stessa e soprattutto secondo me non arrabbiarsi così tanto se il giocatore ti fa l'errore, se ti fa la giocata e la sbaglia, perché tante volte la giocata che ti risolve la partita si esulta e si è tutti contenti e allora bisogna accettare anche l'errore del calciatore e non solo la giocata da campione, questo è un po' il resoconto, il riassunto, il ragionamento che volevo portare ai vostri occhi quest'oggi, fatemi sapere la vostra acquistata nei commenti, noi ci vediamo oggi pomeriggio con il video su Rapport su Rapport